Da recente atto interno l'ASL ha confermato tutte le cose buone che ci sono sull'ospedale di Sant'Arsenio. Facciamo il punto della situazione con il sindaco Donato Pica che ci potrà confermare. È un'operazione che parte da lontano. È la conferma e la formalizzazione di un lungo lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni come comune di Sant'Arsenio unitamente alla comunità montana e al comitato dei sindaci del distretto 72 nel contesto della strategia delle aree interne e che praticamente individua in Sant'Arsenio una struttura polifunzionale della salute che è la prima in Campania e probabilmente una delle poche nel nostro paese. Una struttura polifunzionale della salute che diventerà il centro di coordinamento e di smistamento di tutte le attività territoriali di competenza dell'azienda sanitaria locale. I lavori stanno procedendo in maniera soddisfacente e pressoché completata la fase che riguarda l'attivazione del cosiddetto reparto della doppia diagnosi che dovrebbe partire a breve. Sono ripresi i lavori generali per l'adeguamento complessivo della struttura alle norme antinfortunistiche di materia di sicurezza. Sono in fase di completamento i lavori di modernizzazione e di adeguamento del piano terra e così via via con la realizzazione dell'ospedale di comunità il cui appalto è stato già formalizzato per un importo di 960 mila euro. Poi a seguire avremo la realizzazione degli altri progetti che sono stati preventivati e che trovano riscontro nel programma triennale dell'opera pubblica dell'azienda sanitaria locale che è approvato con atto del direttore generale dottore Iervolino a fine gennaio e che conferma gli investimenti per Sant'Arsenio pari a 4 milioni e 500 mila euro e i quali vanno aggiunti gli stanziamenti per la doppia diagnosi già praticamente portati avanti e quasi conclusi come spiegavo precedentemente e più altri fondi per il percorso dei servizi psichiatrici che andranno invece a valere sulle risorse stanziate dalla regione Campania già dall'anno 2018. Quindi siamo in una fase che ci consente di determinare con ragionevole sicurezza quelli che saranno i passaggi successivi e che voglio ricordare vedranno in Sant'Arsenio oltre la conferma della fisioterapia territoriale e dell'ospis anche l'attivazione dell'unità complessa delle cure primarie cioè tutte le attività ambulatoriali anche quelle afferenti il pubblico esterno che quindi farà riferimento non più all'ospedale ma alla struttura di Sant'Arsenio la conferma delle unità del dipartimento di psichiatria e della unità complessa di salute pubblica e ancora il rafforzamento dei servizi di radiologia e del laboratorio di analisi con degli stanziamenti specifici che sono stati anche questi appostati nel bilancio. Per cui a conclusione del cronoprogramma che ripeto è previsto per fine anno 2021 noi potremmo davvero dire che in questo territorio nel Vallo di Diano siamo riusciti a realizzare uno dei primi modelli di integrazione tra assistenza domiciliare, assistenza territoriale e prestazioni di competenza ospedaliera.